Senza visore, con visore. Senza visore. La rimetti, per favore. Ma sì, dai. Tempo che arriviamo in pista. Eh, vabbè. Ha un sapore tutto nuovo, la taxi così. Allora. Da. Roger. Stand by brakes, brakes, brakes. Vado al centro. Il mio come trovo. Bello il postociatore Climax. Eh, tutto bene. Nota. La chi usce a tre. Stand by brakes. Dovevo lì. Su. Su. Cerrello. Flaps. Sui flaps. Di al posto. Andiamo a 10 gradi. Dovrei subpassarvi alla vostra destra. 18. Visual. Guarda che bello. No. Prova altro nuovo. Overshoot. 6.000. Ti devo correggere insieme. Uh, sto passando a destra. Ancora regolarmi con la velocità. Overshoot. E vabbè. Scortato. E vabbè. Come divertirsi con poco. Vedi c'è la manetta, c'è il pannello nero con due manopole, sulla manopola più indietro, metti il canale 16, e ti senti la musichetta qui, ecco adesso, vedi l'HSI, quello che c'è sotto? C'è una lancetta con un cerchietto, mettitela davanti e segui quella, e poi sopra al costo di RPM, c'è una specie di conta persone di Ryanair, quelli sono i chilometri, la battuta. 78 Per vedere cosa è il conta persone di Ryanair, questo potrebbe essere solo il conta persone che usano Ryanair, oppure potrebbe anche essere la combinazione di quelle valigie compri al Lidl, Per vedere se non è un'offerta, no? Per chiudere quella combinazione, più o meno è fatto così. Grazie a tutti per parlare in tempo. Grazie a tutti.